Ci siamo posti un'altra domanda, ancora una volta cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché spesso quando parliamo con le aziende si crea confusione tra ciò che si intende comunicazione di brand, di azienda e ciò che si intende come comunicazione di marketing. Allora ancora una volta l'obiettivo è provare a fare chiarezza nei concetti, diciamo che il focus che ha la comunicazione è costruire e lavorare sulla reputazione del brand, sull'immagine dell'azienda, l'immagine ovviamente sempre percepita da chi riceve il messaggio. Quindi la reputazione e la visibilità, l'immagine del brand sui vari mercati che presidia, mentre il marketing ha l'obiettivo, il focus principale è supportare l'azione commerciale. Il marketing è una funzione dell'area commerciale, l'area commerciale definisce gli obiettivi, il marketing, e vedremo dopo cosa intendiamo per marketing, ha l'obiettivo di generare e presidiare e attivare tutte le azioni necessarie per generare i primi contatti, aiutare l'area commerciale a chiudere delle negozioni e delle trattative, a generare un nuovo business in linea con gli obiettivi. Tanto è che l'interlocutore cambia, per quando parliamo di comunicazione, l'interlocutore di un'azienda sono gli stakeholder, tutti i portatori di interesse in generale, che ovviamente comprendono i clienti, ma comprendono anche le risorse interne dell'azienda, quindi i dipendenti dell'azienda, tutto il mondo della pubblica amministrazione, tutto il mondo sociale anche all'interno del quale l'azienda lavora e opera, i fornitori e le istituzioni, quindi sono degli interlocutori che non hanno un interesse diretto di business, ma servono per un corretto funzionamento e una corretta percezione di quello che è il brand dell'azienda. Quando parliamo di comunicazione e di marketing invece il taglio è molto più preciso, noi vogliamo parlare con clienti o potenziali tali, punto. Questo è l'obiettivo e tutti quelli che possono intervenire nel processo decisionale. Vedevamo prima Alberto, ci faccia vedere che gli interlocutori possono essere anche molteplici, possono arrivare anche a dieci, ma per noi sono interessanti se possono intervenire o influenzare la negoziazione in un dato momento. Tant'è che gli obiettivi, come dicevamo prima, sono diversi. L'obiettivo della comunicazione è generare reputazione per il brand e presidiare anche l'autorevolezza. Vogliamo risultare apprezzati dal mercato, vogliamo risultare un punto di riferimento nel mercato per competenze che abbiamo sviluppato, per storicità, per prodotti o servizi che abbiamo in esclusiva anche all'interno del mercato. L'obiettivo invece del marketing è riuscire a comunicare al nostro interlocutore che sappiamo qual è la sua esigenza, l'abbiamo trattata, l'abbiamo risolta e se vuole possiamo risolverla anche per lui. Quindi è molto più, è un racconto molto più preciso. Dal punto di vista dello stile, da una parte abbiamo uno stile che è molto informativo, molto alto. Quando parliamo di comunicazione e di marketing, lo stile e il tone of voice, quindi il tipo di linguaggio che andiamo a utilizzare, è persuasivo, è orientato alla risoluzione delle esigenze che ha il cliente, ma è orientato anche ad accompagnare il cliente a darci feedback rispetto al suo livello di maturazione, rispetto alla decisione che deve prendere di acquisto finale. E quindi è molto più orientato a una conversione. Da una parte, quando parliamo di contenuti, quindi in ambito di comunicazione, oggi si parla tanto di ESG, assolutamente fondamentale nel racconto che è un'azienda di gruppo, un'azienda appunto da posizia del brand. Quando parliamo di contenuti di marketing, i contenuti devono rispecchiare, come vedremo tra un attimo, il customer journey, quindi il percorso che fa il nostro potenziale cliente, come ci faceva vedere prima Alberto. E quindi abbiamo contenuti che andranno a risolvere esigenze di esplorazione quando sono nella fase iniziale della mia decisione, contenuti che invece sono più specifici quando devo scegliere tra un fornitore e l'altro, contenuti invece che sono più di relazione continuativa quando sono diventato cliente, ma posso ancora una volta esprimere al meglio il mio potenziale, fino ad arrivare ai canali. Canali oggi, di canali di comunicazione tra online e offline, ne nasce uno nuovo ogni giorno. Quelli che sono da presidiare, secondo noi, sono quelli che sono funzionali, ovviamente all'obiettivo che ci poniamo e al target a cui ci rivolgiamo. E' ovvio che oggi i canali digitali ci permettono di essere, di misurare al meglio le performance e di arrivare in maniera, diciamo, più diretta alla persona. Canali che invece sono tradizionalmente la stampa, piuttosto che tutto il mondo del broadcasting, di tv o radio, sono molto più generalisti. Influiscono sulla percezione del brand? Assolutamente sì, perché raggiungono un numero molto ampio di persone, più difficilmente, diciamo, segmentabili. Ma l'obiettivo in ambito di comunicazione è visibilità, non è conversione. Mentre nel marketing, che sia un evento, che sia quindi fiera, un open house, qualunque tipo di evento, che siano invece canali digitali, l'obiettivo ancora una volta è quello di convertire. Del nostro customer journey, prima vedevamo il customer journey visto dal cliente. Il cliente ha esigenze diverse, a seconda che sia nella fase della consapevolezza, nella fase della valutazione, della decisione e della fedelizzazione. Ha esigenze diverse, si aspetta e cerca informazioni che sono differenti. La parte di comunicazione, quindi di tutte le attività che noi facciamo di brand, lavorano in maniera trasversale rispetto al customer journey. L'obiettivo che hanno è comunicare autorevolezza, comunicare solidità, comunicare valori dell'azienda, a prescindere di dove si trova il nostro cliente all'interno del customer journey. Quindi sono attività che sono trasversali e sono orizzontali. Il marketing, le attività di marketing invece sono più specifiche, cambiano a seconda del momento in cui io mi trovo, io sono ovviamente il potenziale cliente, e quindi cambiano a seconda del mercato a cui noi ci vogliamo rivolgere, che sia un mercato italiano, che sia un mercato estero. Cambiano a seconda del target, io posso avere un prodotto o un servizio che è più specifico per un tipo di utilizzatore, e un altro prodotto che è più specifico per un altro tipo di utilizzatore, ecco che devo fare due azioni che sono diverse, perché sto parlando a due persone che sono diverse, hanno modi di ragionare e di prendere delle decisioni di acquisto che possono essere differenti. Cambia a seconda del bisogno o della necessità che andiamo a soddisfare e che quindi ha il cliente. Quindi sono azioni che sono specifiche, possono avere una durata e hanno degli obiettivi di conversione molto concreti. Ancora se andiamo avanti, ad esempio, come diceva prima Alberto, in fase di valutazione, quello che noi dovremmo fare emergere sono le caratteristiche del prodotto e del servizio che soddisfano le esigenze che il cliente ha e a cui noi abbiamo comunicato, noi sappiamo esattamente quali sono le tue esigenze. Le abbiamo risolte con questo tipo di soluzione di cui ti posso parlare. E possiamo risolverle, possiamo aiutare i clienti in fase di valutazione con delle case history, quindi dei racconti di aziende che hanno risolto la loro esigenza, risolto il loro problema o la loro opportunità attraverso soluzioni che noi abbiamo erogato. Ma ancora una volta invece possiamo condividere con il nostro interlocutore il nostro modello di servizio che serve per abbassare la simmetria informativa, la domanda che tutti ci poniamo, ma sarà in grado di gestirmi e quindi di aiutarmi, di affiancarmi nel tempo, di darmi continuità nel tuo modello di servizio. Quando arriviamo alla fase decisionale dobbiamo iniziare a stringere un pochino di più, quindi quali sono le azioni che il marketing può mettere in pista, tutti noi diciamo il sito, dal sito devo poter creare un form di contatto o un form per fissare un appuntamento, ecco l'appuntamento è sicuramente una fase importante, ma io potrei anche decidere che utilizzi i miei canali di marketing per invitare persone che stanno, sono nella fase di consapevolezza o di valutazione, ad una fiera, ad un evento che io ho organizzato, perché è in quel momento che riesco a trasformare una relazione che è digitale a una relazione che invece è personale, l'incontro fisicamente in un evento. Oppure, se parliamo di aziende che erano software, tutti vediamo che esiste il momento catartico che è la richiesta demo. Tutti siamo ingaggiati, tutte le aziende software sono ingaggiate nella richiesta demo. La richiesta demo significa ho l'opportunità di parlare a un potenziale cliente per condividere le funzionalità che ha il mio prodotto o servizio e per capire quali sono le sue esigenze. Nella realtà, perché ci sto parlando, quindi trasformo, creo una relazione uno a uno, quindi posso capire le sue esigenze e quindi modulare anche il mio racconto rispetto alle sue esigenze. Fino a quando il marketing non muore, quando uno dice voglio parlare con l'azienda, il marketing continua, fino a quando quindi non divento cliente, allora ancora una volta, l'obiettivo è mettere in evidenza, raccontare, cercare di ingaggiare il cliente rispetto ai servizi che possiamo rendere continuativi nel tempo, che possono essere di formazione, di assistenza, o addirittura di personalizzazione del servizio, del prodotto che abbiamo, che stiamo erogando. Scendendo ancora di un'ottava, quindi scendendo ancora all'interno dell'attività di marketing, abbiamo visto che marketing e comunicazione sono due mondi che risolvono, che risolvono esigenze, che sono diverse, hanno obiettivi che sono diversi, ovviamente hanno un punto di tangenza, tant'è che diciamo comunicazione e comunicazione di marketing. all'interno del mondo marketing e oggi vogliamo raccontare, vogliamo far emergere un tipo di segmentazione, ce ne sono mille, oggi vogliamo parlare di attività push e di attività pull. Le attività pull, oggi ormai siamo tutti abituati a questo tipo di parole, però le attività pull in generale sono tutte le azioni che servono per attrarre il cliente verso la soluzione di una necessità. Cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a distribuire dei contenuti che parlano dell'esigenza, parlano della necessità e quindi su cui il cliente entra in contatto empaticamente attraverso canali digitali e non, per poi accompagnarlo nella fase di soluzione. Ma il cliente che sta venendo verso di noi perché ha un'esigenza, cerca informazioni che possono risolvere la sua esigenza, la prima cosa che deve fare è mettere a fuoco l'esigenza. Se noi parliamo e mettiamo, diciamo, diamo una forma alla sua esigenza, sarà lui che verrà verso di noi perché capisce che è esattamente quello di cui ha bisogno e quindi va avanti nel percorso di esplorazione. Oppure ci sono attività push. L'attività push invece sono molto più, appunto, spingono il cliente verso la scelta, la selezione di un prodotto e servizio. Quindi cercano di individuare un cliente nuovo o già database, come vedremo tra un attimo, che ha un'esigenza specifica e che in quel momento noi possiamo risolvere. sono attività molto, diciamo, rapide che hanno il grande vantaggio che possono individuare l'interlocutore nell'esatto momento in cui lui esprime il bisogno. Quindi accelerano, vedremo, il processo di generazione di un contatto in target. di un'esatto